Buongiorno, siamo con il sindaco di Montechia di Crosara, Tiglio Dal Cero. Oggi parliamo di come il suo comune ha vissuto questi tre mesi di emergenza. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, veniamo appunto da tre mesi di quarantena, di lockdown. Nelle ultime settimane un po' lentamente si è riaperto tutto, ma come ha vissuto il suo comune questo periodo di difficoltà? Sia dal punto di vista della cittadinanza, sia dal punto di vista di voi, amministratori. Dal punto di vista della cittadinanza, il periodo è stato vissuto a fasi alterne e contraposte. Ci sono state delle adesioni totali a quelle che sono state le regole, peraltro imposte da noi amministratori, suggerite ovviamente dai nostri superiori, vedi provincia, regione e governo centrale. Diciamo che sostanzialmente le cose sono andate, direi bene, sia dal punto di vista della risposta dei cittadini, sia dal punto di vista della tranquillità e presenza degli amministratori, e soprattutto anche dal punto di vista della diffusione del virus. Abbiamo avuto pochi casi, due importanti, purtroppo uno ha portato anche al decesso di un nostro cittadino, peraltro con altre patologie pregresse, per cui anche il nostro assessore della sanità, il dottor Dalcero Cesarino, non è che abbia sminuito il problema Covid nei confronti di questa persona, però dice che è stata la goccia che praticamente ha fatto traboccare il vaso. Pertanto altre problematiche pesanti non ne abbiamo avuto. Abbiamo avuto ovviamente casi in quarantena. Siamo arrivati a un massimo di 10 attenzionati, nel senso che due erano effettivamente positivi, gli altri o perché erano incerti, casi sospetti, cosiddetti no, o perché erano a stretto contatto, erano rimasti in quarantena, cioè in isolamento fiduciario, provvisorio. Sostanzialmente dal punto di vista proprio economico abbiamo avuto dei grossi problemi, perché tutte le nostre, non tanto le botteghe dell'alimentare che sono rimaste sempre comunque aperte, ma tutti gli altri negozianti hanno avuto problemi grossi che stiamo affrontando in questi giorni, proprio dal punto di vista di agevolazioni e quant'altro, che ci sono concesse e permesse anche da alcuni stanziamenti straordinari che sono arrivati dal Governo centrale. Ecco, questo è proprio un periodo in cui tutte le attività stanno ripartendo, attività e quindi anche la vita di tutti i cittadini. Qual è un auspicio per i prossimi mesi da parte del primo cittadino? Come vede appunto qual è la prospettiva, anche magari in chiave ottimistica, delle prossime settimane e dei prossimi mesi? Beh, noi siamo tendenzialmente e proprio personalmente ottimisti in tutte le cose e vediamo sempre, come si dice, il bicchiere mezzo pieno, anche perché delle nostre parti i bicchieri si usano abbastanza. Ecco, mi scusi la battuta, ma comunque abbiamo riaperto ormai praticamente tutto. Abbiamo partecipato, quando c'erano le chiusure parziali di parrucchieri, bar e quant'altro, a manifestazioni di piazza estremamente regolamentate e controllate dal sottoscritto e da tutta l'amministrazione, con preavvisi ovviamente a prefetto, questore e quant'altro, e vediamo che la risposta dei cittadini è molto buona. Ripeto, stiamo guardando avanti, abbiamo il mercato cerasicolo aperto che funziona praticamente a tempo pieno e in pieno, proprio nel senso che tutto il prodotto viene regolarmente smaltito, quindi vuol dire che stiamo funzionando bene. La nostra prospettiva è di guardare avanti e di fare, per esempio, non tanto la sagra delle ciliegie che sarebbe prevista per i 14 come giorno clou di giugno, ma continuare a fare la mostra delle ciliegie, che è quello, come ho detto a tanti, che ci riporta alle origini, perché presumibilmente 90 anni fa, quando hanno cominciato a fare la mostra delle ciliegie, era proprio una cosa paesana, una cosa quasi familiare, che noi intendiamo fare anche quest'anno. Vediamo, stiamo studiando, i modi, i tempi, i luoghi, in modo tale che ci siano tutte le regole, ancorché vediamo che da domani dovrebbero essere un attimino più aperte, anche dal punto di vista regionale e quant'altro. Benissimo, quindi tutte le difficoltà si guarda al bicchiere mezzo pieno. Grazie ancora, signor Sindaco, grazie per essere intervenuto nella nostra trasmissione. Le auguro una buona giornata. Chiedo scusa se posso aggiungere una cosa. Prego, prego. Abbiamo intrapreso anche quello che abbiamo cominciato l'anno scorso, lo vogliamo continuare, cioè praticamente le feste, l'anno scorso è stata dell'Uva a Monteforte, quest'anno sarà la festa del turista a Vestena, abbiamo intrapreso una collaborazione di sette comuni, cioè i cinque della Val d'Alpone più Soave e Cassano di Tramigna, in modo tale da avere una cosa unitaria che ci porti tutti i comuni insieme a una festa, che sarà il 29 luglio a Vestena. Abbiamo già fatto la prima riunione venerdì scorso e andiamo avanti. Quindi vede ottimismo sempre in prima linea. Assolutamente, quindi nelle difficoltà unirsi è sicuramente il passo giusto per ricominciare. Tengo a precisare che noi eravamo già uniti da prima e continuiamo in questa unione e in questa visione unitaria delle cose da fare. Perfetto, benissimo, benissimo. Grazie ancora signor Sindaco e quindi buona giornata. Grazie a voi, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie a voi, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.